Buongiorno ragazzi, torniamo con la seconda parte di questo capitolo undici di Famiglia Romana. Eravamo arrivati qui con il Medicus qui videt puerum dormire, et Medicus dicit puer dormit. Ma no? Sira quei male audit, id quod Medicus dici audirit non potest, id aque interrogat. Qui dicit Medicus? Emilia in aurem sire. Medicus puerum dormire dicit. Quintus oculos aperit, atque Medicum ad esse videt. Puer cui Medicum timet, nullum verbum facere audet. Medicus Os aperi puer, lingua mostende. Sira Qui dicit Medicus? Emilia Medicus quintum os aperire, atque lingua mostendere iubet. Quintus os aperit, atque medico, lingua mostendit. Allora, qual è il senso di questa prima parte? Perché Orberg introduce tutti questi discorsi diretti in cui uno non capisce quello che sta succedendo? Per introdurre in realtà i discorsi indiretti. In che modo quindi possiamo fare questi discorsi indiretti? Ad esempio utilizzando dicit. Medicus dicit puerum dormire. E che cosa vuol dire in realtà poi Medicus dicit puerum dormire? E' un'oggettiva. Medico soggetto dicit che cosa puerum dormire. Puerum con l'accusativo, l'avevamo già visto in realtà accennato nello scorso capitolo, che ha funzione di soggetto proprio come in greco, e poi dormire. Lo potremo tradurre in italiano, e non me ne vorranno gli Orbergiani più, diciamo, integralisti, il medico dice che il ragazzo, che il giovane, dorme. Quintus oculos aperit, è ok, e videt medicum ad esset, vide che cosa, vede che cosa, medicum ad esse, stessa cosa. Puer qui medicum timet nullum verbum facere audet, ok? Medicus, os aperi puer, imperativus. Lingua mostende, imperativus. Qui dicit, medicus quintum os aperire at que lingua mostendere, iubet. Stessa cosa. Medicus iubet, quid, os at que lingua am aperire. E qui possiamo anche intuire, quindi, os, di che tipologia di genere appartiene. Perché essendo os, essendo quindi non declinato sostanzialmente rispetto al nominativo, è per forza di cose un neutro. Andiamo avanti. Quintus os aperit, at que medico lingua mostendit. Medicus lingua meius rubra messe videt. Medicus, lingua eius rubra est. Sera, quid dicit, emilia, dicit lingua meius rubra messe. Medicus etsiam dentes quintis pectat. Et interdentes, albos unum nigrum videt. Non sanus est dentes piccolorem nigrum abet. Aveva una carie. Medicus, puer dentem egrum abet. Quintus. Sed dens non dolet, ergo dens eger non est. Pest dolet, et caput. Sera, quid dicit, emilia. Medicus dicit, quintum dent egrum abet. Quintus dicit, pentem et capum dolere. Non dentem. Ok? Anche qui, pedem, non dentem, dolere. Et caput, dolere. Sono tutti accusativi. Sono tutti, ripetuti più volte, dei complementi predicativi dell'oggetto. Delle propos... scusate, le complementi teorie dell'oggetto. Sono tutte proposizioni oggettive. Ce la possiamo fare. Iulius. Non dentem, sed pedem, modo sana, medice. Ok? Quindi Iulius dice... Non dentem, sed pedem, solum sanat, praticamente, no? O medice. Medicus pedem quintis pectat, atque digitum, atpenem apponit. Apponere, ad ponere, ad pedem, digitum. Medicus pedem eius tangit. Tangit. Cosa vuol dire in... In italiano, no? Se uno non mi tange, vuol dire che non mi tocca. Puer digitum medici in pede suo sentit. Quintus. Ai, ai, pestolet! Medicus, ad Iulium. Tene braccium pueri. Ad Emiliam. Tene poculum sub braccio. Ad quintum. Claude oculos puer. Medicus quintum, oculos claudere iubet. Quod puer, cultum medici timet. Ecce medicus cultum ad braccium puere apponit. Est ecce culter. Per territus, quintus, cultum medici sentit in braccio. Es per territus. Nec oculos aperire audet. Capilli orrent. Cor palpitat. Medicus venam aperit. Ruber sanguis de braccio in poculum fluid. Quintus sanguineb de braccio fluere sentit. Atque orret. Fronset gene albe sunt ut Lilia. Medicus puerum oculos aperire iubet. Aperi oculos puer. Neque quintus oculos aperit. Puer quietus super lectum iacet. Ut mortus. Sicut mortus. Sira. Cur quintus oculos non aperit. O dei boni, puer mortus est. Quintus autem spirat. Ergo mortus non est. Sed sira eum mortum esse putat. Quod eum spirare non audit. Iulius et Emilia. Filium sum quietum spectant. Orrere. Est. Ubi est. Orrere ecce. Est. Per territus s. Autorret. Sicut omerus. Qui non ci sono tante particolarità. Se andiamo a vedere, diciamo, dal punto di vista grammaticale. Le uniche cose, per l'appunto, che abbiamo visto riguardano queste proposizioni oggettive ripetute. E andiamo poi a vedere più nel dettaglio come si fa un oggettivo. Qui a portata di mano o, se non sbaglio, no neanche. Vabbè, poi andiamo a vedere più nel dettaglio come si fanno le oggettive. Le regole sono le stesse, comunque, per tutte quante le lingue. Allora, eravamo arrivati alla nostra Sira, che è convinta che sia morto Bonquintus. Qui in Sira è un morto asseputat, quodem uspirare non audit. Iulius et Emilia, filum sum, quietum spectant, atque tacent. Medicus, manum superpectus, pueri impunit. Eunque spiraret, coreius palpitare sentit. Qui introduce questo pectus, che, se non sbaglio, ha già messo qui. No, qui c'è manus manus, ma pectus, vediamo un po' se dice qualcosa di pectus. Non dice nulla, ma sono nomi che noi vedremo più avanti, perché sono nomi di un'altra declinazione. È per questo che è superpectus, e non è un caso che invece ci aspetteremo. Allora, arrivamo a superpectus. Eunque spiraret, coreius palpitare sentit. Medicus, puer spirat, et coreius palpitat. Emilia gaudet, quod filius vivit. Sira, quid dicit, medicus? Emilia, medicus dicit, quintum spiraret, coreius palpitare. Ergo, quinto, svivit. Ergo, questo già lo conoscete, cogito ergo sum. Vuol dire quindi, sira quinto un vivere gaudet. Questa è una costruzione un po' particolare. Perché sira quinto un vivere gaudet potrebbe... E intanto gaudet, qui vedete, quella leta est, quella gaudet. Gaudiamo, sì, ci troviamo già visto. Quia gaudet. Quia quod quia quintum quintus vivit. Sarebbe sira gioisce che quinto è vivo. Però è un po' brutto in italiano. Quindi sira, in italiano sarebbe più corretto dire, sira è felice perché quinto è vivo. Ok? Emilia, sanguinem de brachiofili deterget. Detergere, essi tutti in lingua italica. Iam puer oculos aperit. Quintus, ei, dolet brachium. Mater filium vivum esse videt et audit. Emilia imperat. Acquam arcesse, sira! Neque ancilla verbe domine audit. Quindi arcesse acquam. Portami l'acqua sarebbe. Iulius, domina te acquam arcesse re iubet sira. Sira habit. No, abeo. Atque revenit cum alio poculo acque pleno. Emilia poculum tenet, dun quintus bibit. Medicus. Iam necessese est puerum dormire. Exit medicus. Quintus qui medicum orret, eum ab esse gaudet. Iulius. Iam filium noster non modo pede, sedeziam brachio egerest. Emilia. Ille medicus crassus filium nostrum sanare non potest. Emilia. Non putat medicum puerum egrum sanare posse. Sira. Stultus est medicus. Neque cuor, neque cerebrum abet. Sira medicum stultum esse dicit. Iulius et emilia. Emus tultum esse putant. Non dicunt. Allora, qui in realtà non ci sono tante cose nuove. Abbiamo noster, nostra nostrum, che insieme a meus e poi tus, includono quelle che sono, diciamo, quelle parti che in italiano diciamo appunto nostro, no? Noster, nostra, nostrum, nostro. Abbiamo poi abesse, che potete intuire benissimo cosa sia, perché viene da, sostanzialmente, absum, però è l'infinito, che è esse. Abbiamo poi come si fa possum, che è potest, possunt e possa, l'infinito, che ricordatevi è sempre un composto di essere. E per quanto riguarda il resto, sono tutte ripetizioni di quelle che sono le proposizioni oggettive. Andiamo quindi a vedere la parte grammaticale. E qui vi dice accusativus cum infinitivo. Iulia dormit, sira Iulium dormire videt. Sira Iulia dormit, sira Iuliam dormire dicit. Iuliam dormire est accusativus cum infinitivo, accusativus cum infinitivo ponitur apud multeverba. Verbum sicut, videre, audire, sentire. Sicut iubere, dicere, putare. Caudere, et necesse est. E quindi questa è la regola generale. Sono i cosiddetti verbi che indicano sostanzialmente un ordine o un pensiero, un sentimento, oppure che riguardano i sensi. E quindi questo è quanto. Non è niente di molto diverso da quanto in realtà avete visto in greco. Questo quindi è quanto. In teoria in questo capitolo si rendeva necessario, secondo loro, approfondire questa parte che noi abbiamo fatto all'inizio del capitolo, ma anche in quello precedente. Riguarda quindi i nomi cosiddetti in parisillabi neutri, come corpus corporis o flumen fluminis, ricordatevi che la declinazione orbergiana è un po' diversa, oppure mare maris e animal animalis. Perché? Perché in realtà in questo modo si declinano i sostantivi in e, appunto, oppure in al. E questa è la caratteristica, diciamo, tipica di questa tipologia di verbi. Però vediamo questi, ovviamente successivamente ne vedremo altri. Se qualora dovessero esserci domande, ovviamente scrivetele sotto e cercherò di rispondervi. E niente, questo è quanto. E a presto.